Presidente, svolgerò l'intervento con difficoltà perché è oggettivo. Noi in questo momento siamo costretti ad intervenire senza conoscere se il testo che è uscito dalla Commissione è il medesimo che il Governo ha presentato con il maxi emendamento. Prima il Ministro per i rapporti col Parlamento Finocchiaro ha detto che è sostanzialmente uguale. Non ha detto che è uguale, il che significa che ci sono delle modifiche. Ed è oggettivamente impensabile che si possa sviluppare un dibattito serio senza conoscere ciò su cui si va a dibattere. Io sfido chiunque, qualunque cittadino, a prendere una di queste 28 pagine che abbiamo avuto a disposizione non più di mezz'ora fa, infarcite di emendamenti che si aggiungono al testo originario, che si incastrano con leggi esistenti e a riuscire a districarsi in pochi minuti e capire che c'è qua dentro. Questo è il metodo che utilizza il Governo per imporre le leggi al Paese, non al Parlamento, al Paese, ai cittadini. Questo è un metodo da sudditi, non da rispetto nei confronti da chi le tasse le paga e da chi vuole semplicemente esercitare dei diritti. Perché tramite queste leggi non si consente di esercitare dei diritti. Si impongono gli interessi delle lobby. Questo è quello che sta accadendo, ancora questa volta. E quanto sta accadendo fuori, qui, in piazza o in tutte le altre piazze d'Italia, dovrebbe essere un serio campanello d'allarme per un Governo che ci tiene, non alla propria reputazione in quanto tale, ma all'interesse al bene del Paese. domandatevi perché i cittadini stanno protestando, perché stanno manifestando e non date una risposta come quella che diede Maria Antonietta. Il popolo ha fame, non ha più il pane, dategli le brioche. Perché questo è il vostro atteggiamento. Irridere, non prendere sul serio le cose e allora noi vi ammoniamo per l'ennesima volta state scherzando col fuoco perché la gente è arrabbiata. La gente non è arrabbiata per caso, ma perché vede calpestati i propri diritti, Presidente. Qui dentro, e questo sono riuscito a trovarlo, a pagina 8, non si sa poi che cos'altro c'è, ma qui dentro c'è l'emendamento presentato dalla senatrice Lanzillotta, quello a cui già accennava il collega precedentemente, quello che fa, come si dice, carne di porco di tutto il sistema che dovrebbe essere legale della gestione del trasporto con conducente o del sistema dei taxi o delle licenze. Perché, vede, Presidente, siamo abituati ormai a ricordarci che non c'è niente di più definitivo in Italia di ciò che è provvisorio. E allora solo in un Paese come questo esiste il decreto mille proroghe con cui annualmente il Governo, anziché affrontare i problemi, li trasferisce all'esercizio successivo. E questo metodo, questo sistema, oggi, è diventato non solo un modo per dilazionare la soluzione ai problemi, ma addirittura per consentire a chi si approfitta dell'illegalità di poter continuare ed esercitare nell'illegalità. E questo è il paradosso a cui si è arrivati. E qui dentro, Presidente, tra una pagina e l'altra, si nascondono queste, Presidente, le mazzette. Qui dentro si nasconde la corruzione. È questo che c'è qua dentro, in questi decreti. Qui dentro si nasconde la corruzione, perché ci si deve spiegare, altrimenti, come può il Governo presentare, e questo è il disegno di legge, atto Senato 2630, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan, lo stesso Padoan che va in Europa e poi torna in Italia, e viene a dire che bisogna essere credibili e seri per poter avere spazio di ulteriore concessioni quando si deve fare il bilancio. Come si può essere credibili e seri e chiedo a lei e a me, Presidente, se a pagina 28 il Governo scrive si proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto con cui il Ministro dello Sviluppo Economico, previa e intesa con la conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, udite, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Qui dentro il Governo ha scritto che la situazione di abuso è nota e che anziché affrontarla ne dilaziona il termine al futuro. E questa cosa avviene da anni. Ma fino a quando possiamo consentire che un Governo renda nel ridicolo il nostro Paese? Fino a quando si può consentire che si scrivano le leggi che esistono gli abusi, che il Governo lo sa e che anziché affrontarli li sposta avanti? E se poi a questo spostarli avanti si aggiungono emendamenti come quello presentato dalla senatrice Lanzillotta, il famigerato 3.20 e la piazza si incazza. Ha ragione! Perché qua dentro c'è scritto che le regole non valgono più. Questo è quello che sta succedendo. Le regole non valgono. Perché c'è sempre qualcuno che ha qualcun altro che gli consente di approfittarne. Gli amici degli amici. E basta col sistema degli amici degli amici. Le abbiamo già viste le cene fatte da Uber con i componenti del Governo. Gli incontri fatti da Uber con Renzi per declinare come devono essere fatti le leggi. Ce le ricordiamo queste cose. E la gente stia sereno, Presidente Renzi, stia sereno, Presidente Gentiloni. Perché non se ne dimentica queste cose. Presidente Grasso, il Comune di Firenze negli scorsi mesi ha bandito 70 nuove licenze per il servizio di taxi. Sono state bandite a titolo oneroso. 175 mila euro hanno pagato cittadini che pagano le tasse per avere quel diritto a lavorare. Con questa modifica di regole voi dite che quella è carne da porco non vale niente. Voi dite che chiunque è nell'abuso può continuare ad operare nell'abuso. Voi dite che è un sistema finanziato da una multinazionale come Uber può operare sul nostro territorio senza regole. Questo è quello che sta succedendo. Questo è quello che avete scritto qua dentro. Questo è quello a cui noi ci opponiamo fermamente. Perché non è serio. Non è serio nei confronti di chi è onesto. Di chi vuole lavorare onestamente. Qui dentro ci sono proroghe per la gestione del terremoto dell'Irpigna che va avanti da 37 anni. Qui dentro ci sono proroghe per i pagamenti dei cittadini che hanno subito il terremoto negli scorsi anni e negli scorsi giorni. Non nell'annullamento delle cartelle. Non l'esenzione delle tasse ma posticipare le tasse. Gli arriverà un'altra mazzata alla fine. Altro che andare in giro a dire che il governo si sta attivando per aiutare quelle popolazioni a risollevarsi. Non riesce a chiudere la gestione commissariale del terremoto dell'Irpigna di 37 anni fa e mette dentro la proroga per il pagamento delle tasse ai cittadini terremotati di oggi. Ma chi volete prendere in giro? E date le licenze a chi non le ha e lasciate che ci sia l'abusivismo laddove deve essere invece scovato e cancellato. Noi su questo mire proroghe siamo disgustati e la protesta che c'è qua fuori è una protesta legittima fatta da gente che chiede solo di lavorare in un paese serio in un paese in cui si conoscano le regole ed è ora di finirle di mettere una persona contro l'altra senza dare il rispetto dalle regole. Abbiamo visto qua dentro come è stata modificata la Costituzione e bontà di Dio il popolo ha fatto capire che su quella strada non si va da nessuna parte ma a quanto pare la lezione il governo che è la fotocopia del governo Renzi non l'ha capita perché continua ad avere a che fare con le lobby continua ad avere a che fare con chi gli interessi li porta avanti non alla luce del sole noi chiediamo solo questo che ci sia serietà che la finiate con le riunioni al Nazareno imposte poi al paese con fibrillazioni costanti che produrranno semplicemente l'esasperazione dei cittadini piantate andiamo a votare riportiamo riportiamo la democrazia in questo paese e lasciamo fuori le lobby dal Parlamento altro che presentare alla Camera dei Deputati un disegno di legge che sostiene tra l'altro il tesoriere del PD Bonifazi che vuole intervenire per regolamentare la gestione tra politica e lobby eccolo qua come agisce la politica del PD con le lobby eccolo qua come agisce la politica del PD con le lobby questo è il vostro modo di fare di questo noi siamo vergognati non è degno non è degno di entrare in queste aule un provvedimento del genere Presidente lei ha fatto bene settimana scorsa quando come ha scritto qualche giornale ha salvato la faccia al Governo togliendo quell'emendamento che nulla c'entrava con il decreto che avevamo in conversione per dare i soldi a Monte dei Passi inserendo dentro un decreto che invece voleva dare i soldi per coprire con una garanzia fiduciaria una gara di golf ha fatto bene e io chiedo ancora a lei Presidente di guardare questo provvedimento e chiedo a chi poi lo dovrà controfirmare al Presidente della Repubblica di rifletterci bene perché questo provvedimento non ha nulla a che fare con le aspettative di serietà che i cittadini hanno all'esterno e nemmeno con il predicato di serietà che il Governo va enunciando sui giornali o quando si devono ritrovare all'estero voi tradite sistematicamente gli impegni sistematicamente è sempre lo stesso reframe dello stesso Renzi che quando deve mettersi in gioco dice me ne vado dalla politica se perdo il referendum e adesso sta facendo carte false per rientrare in campo finché lo fa col proprio partito peggio per loro ma quando queste fibrillazioni poi si trasferiscono sul paese dico dannazione a voi perché mandate il paese in rovina questo è quello che state facendo la serietà la parola data me ne vado dalla politica ma vattene e lascia che i cittadini possano esprimersi liberamente con elezioni democratiche state facendo carte false e l'avete fatto anche nelle scorse ore presidente lei è al corrente che per l'ennesima volta due senatori del partito democratico gotore migliavacca sono stati sostituiti in commissione affari costituzionali perché avrebbero espresso un parere un voto non allineato con la linea politica del segretario del partito democratico Renzi lei sa che questo è avvenuto e questo non rispecchia quel diritto che debbono avere i rappresentanti del popolo di esprimersi liberamente questo è avvenuto è lo stesso metodo che abbiamo visto quando il PD ha messo mano alla riforma costituzionale e continuano a farlo e continuano a farlo perché il governo Gentiloni è la brutta copia la fotocopia in peggio con il manovratore che sta sopra del governo Renzi con lo stesso modo di fare ma che Renzi se ne vada e faccia quello che gli è più congeniale il piazzista vada a fare la Vannamarchi in televisione vada a vendere le padelle almeno avrà una ragione di vita si trovi un lavoro dignitoso faccia qualche cosa che lo renda utile perché l'unica cosa che ha fatto finora è parlare fare il politicante viene a dire qua dentro le cose e poi fa il contrario nel suo partito piuttosto vada linearmente a fare quello che ha fatto il suo compagno il suo sodale Tony Blair vada a fare i rappresentanti di JP Morgan o di Goldman Sachs almeno lo farà alla luce del sole almeno si saprà che è un lobbista non lo faccia fare ai senatori presentando emendamenti e mettendoli dentro poi nel mille proroghe per andare a dare per andare a dare favore agli amici e ai lobbisti no presidente noi diciamo no diciamo no alla Bolkestein diciamo no a questo modo di fare diciamo no a questo governo dovete andarvene subito noi voteremo no a questo provvedimento perché vogliamo che là fuori sappiano che qui dentro c'è ancora chi difende il popolo non ci sono solo i rappresentanti delle lobby perché la Lega difende il popolo e i diritti di chi vuole lavorare in un paese libero con regole serie riconosciute è vero e prima ve ne andate a casa prima si tornerà alle urne prima la pianterete con questa pantomima e prima il paese tornerà ad essere finalmente serio grazie grazie grazie